E quindi è facile, non è che Jacky Bear giocare bene cosa vuol dire giocare bene, io non l'ho ancora capito, ho 52 anni, se qualcuno me lo spiega io sono, ho la mia unità nel vetto lì e cerco di capire come questo infatto per bene, magari poi si pulirò, però secondo me è fatto, ok? Come dico sempre nella vita in tutti i luoghi sono le categorie, e dico sempre ci sono i giocatori che vincono, ma c'è anche i giocatori che non le vincono, ok? e prendo i giocatori che non vincono i campionati, i giocatori che vincono i campionati, i giocatori che ne frasciano, e i giocatori che non ne frasciano mai, ci sono i dirigenti che vincono, i giocatori che vincono, i giocatori che vincono mai, cazzo se non vince mai, ma ci sarà un voto, Dio santo! Ciao, ciao a tutti, ciao a tutti, oggi è sempre il 21 dicembre 2023, solo che sono le 21.08, puntuale come sempre, come sempre Forza Juven, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao anche a YouTube, perché questa live verrà ricaricata immediatamente su YouTube, Lorenzo arriva tra una ventina di minuti, quindi se state guardando questa live indifferita, potete tranquillamente spostare la leva, il cursore del timing fra 20 minuti, quando ci sarà anche Lorenzo io avevo bisogno di una ventina di minuti per fare un attimino riepilogo con voi di quello che è successo oggi pomeriggio tanto per cominciare c'è una sub, che è quella di Fraudolentuni, grazie mille, grazie davvero per la tua sub, la prima della serata e fai con noi dieci mesi, dieci mesi, grazie, grazie Fraudolentuno per la tua sub, grazie mille, poi 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 vediamo un po' chi c'è, chi c'è già qua, c'è Valerio, ciao Valerio, ciao, ciao Andratos, di che si parla? Allora, primi venti minuti, così rispondo anche a Tipo Timido, primi venti minuti, volevo fare un attimino riepilogo con voi di quello che è successo oggi pomeriggio per la questione UEFA, Superlega, eccetera, eccetera, guardare insieme a voi anche quelle che possono essere state magari le prime, diciamo le prime dichiarazioni di chi era interessato e coinvolto quindi ci sono le dichiarazioni della FIGC, ci sono le dichiarazioni della Lega Serie A, anche le dichiarazioni del Ministro dello Sport e quelle del CEO della Superlega quindi prima, prima vediamo questo, poi alle, appunto, fra una ventina di minuti, arriva Lorenzo, Lorenzo Bulgarelli, è un ragazzo che si occupa di Juventus, lo fa su YouTube, lo fa anche su Top Planet io seguo il suo canale da diversi mesi ormai, ogni tanto mi capita di guardare i suoi contenuti, li trovo sempre estremamente condivisibili e questo un po' mi dispiace perché avrei preferito litigare con qualcuno, ma non credo che sarà così però, nonostante ci sia, diciamo, abbastanza unità in quello che è il pensiero sulla Juve del momento, lui si esprime veramente molto bene e quindi troverete poi magari anche su Discord o in descrizione su YouTube anche il link per andare al suo canale quindi iscrivetevi perché comunque è sempre un punto di vista piacevole da ascoltare quando si tratta di Juve e quindi questo fra mezz'oretta, venti minuti allora, quindi partiamo, partiamo con le dichiarazioni ragazzi, perché come dicevamo allora, la prima cosa, molti dicevano oggi pomeriggio che cosa cambia per la Juve io per la Juve non lo so che cosa cambia, oggi pomeriggio abbiamo certificato che formalmente la Juventus dalla Superlega ancora non è uscita, formalmente diciamo che qualche mese fa è stato avviato l'Iter cioè noi abbiamo comunicato a Barcellona e Real Madrid che saremmo usciti dalla Superlega e quindi era iniziato l'Iter, ma formalmente noi non siamo ancora usciti quindi la Juventus, a differenza di molte altre squadre anche forse di chi non doveva esprimersi però la Juventus non si è ancora espressa un dato, un dato che secondo me può essere parzialmente significativo è che oggi pomeriggio il titolo della Juventus viene chiuso al ribasso perché stava tipo raggiungendo il più 16% una roba del genere che cosa ci dice questa cosa? Niente, se non che chi investe in Juventus crede che questa possa essere una buona opportunità per la Juventus vedremo, vedremo, vedremo comunque volevo leggere proprio le dichiarazioni vere e proprie le dichiarazioni vere e proprie che andiamo, vado a prendere subito così riusciamo a fare tutto entro le nove e mezzo a proposito appunto di squadre che hanno detto che non parteciperanno stanno uscendo comunicati di Inter, Real Sociedad, Feyenoord, Copenhagen, Monaco pure l'Atalanta pure l'Atalanta ha fatto un comunicato il Tottenham, il City, eccetera, eccetera vabbè, che non parteciperanno a questa a questa Superlega che non esclude che in futuro possano essercene altre ribadiamolo ribadiamolo non è che da domani c'è la Superlega pensata da Perez e da Agnelli ok? ma da domani potrebbe potrebbe essere organizzata qualsiasi cosa che potrebbe essere un flop come potrebbe essere invece un grande successo da oggi c'è quella possibilità lì questo è successo fine di tutto il resto allora, le dichiarazioni le dichiarazioni allora, il comunicato della Serie A in merito alla cosiddetta vicenda Superlega in attesa di approfondire la portata e gli effetti giuridici della decisione pubblicata oggi dalla Corte di Giustizia Europea la Lega Serie A ribadisce la centralità del campionato nazionale e dei suoi tifosi e auspica che i successivi sviluppi vedano un pieno coinvolgimento delle leghe e dei club in soldoni vuol dire non è che ci stiamo opponendo a voi se voi fate comunque l'interesse anche anche dei campionati nazionali noi ci stiamo quindi questo è il comunicato della Lega Serie A poi 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 ce n'era un altro paio che volevo leggervi che è quello di Abodi il ministro dello sport che dice Superlega c'è una posizione sostanzialmente analoga tra i grandi paesi europei che si vedranno il 10 gennaio a Bruxelles per concordare ulteriormente la posizione e sostanziarla io credo molto nella collaborazione quindi anche qui ripeto porte aperte porte aperte non sta facendo questo non è uno sbarramento poi 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 c'è la dichiarazione del CEO ah io ringrazio Around Juventus per riportare ovviamente tutta questa roba complimenti questo è il CEO della Superlega siamo aperti al dialogo con tutta la famiglia del mondo del calcio siamo molto soddisfatti che i club possano guardare la nostra proposta alla luce del sole e liberi da minacce di sanzioni il nostro dialogo sarà per convincere club e tifosi che questa proposta è un bene per il calcio abbiamo ricevuto molto supporto oggi e apprezziamo quello di tutti anche quello di Andrea Agnelli non vogliamo fare speculazioni ma il nuovo torneo partirà il più presto possibile che ovviamente non vuol dire nulla noi vogliamo ottenerci alle regole oggi è stata concessa la libertà di proporre e promuovere un'altra competizione ma siamo aperti al confronto quello che dicevamo oggi no? il braccio di ferro per ottenere magari qualcosa in più dalla UEFA se ci dicono dove modificarla lo faremo noi siamo una lega non siamo scusate non siamo una lega separatista abbiamo anche cancellato la membership permanente non abbiamo fatto firmare carte volevamo solo capire quale fosse la migliore competizione se ora facciamo speculazione sui club interessati rischiamo di dividere ma non vogliamo farlo più avanti diremo quali quindi anche novità su magari quelli che invece sono appunto interessati vabbè ultimo ultimo il comunicato invece della federazione che dice difenderemo sempre i campionati nazionali la FIGC riconoscendosi pienamente negli organismi sovraordinati della UEFA e della FIFA ribadisce la sua convintazione a tutela dei campionati nazionali per la difesa del più ampio e generale principio del merito sportivo e del rispetto dei calendari internazionali nel rispetto delle leggi nazionali e dei regolamenti internazionali la FIGC ritiene che la Superlega non sia un progetto compatibile con queste condizioni e agirà sempre in tutte le sedi perseguendo gli interessi generali del calcio italiano vabbè questa era la questa era la FIGC chiaro che non c'è lo sbarramento la sentenza parla chiaro e la UEFA non può fare più la voce grossa esatto cioè il punto il punto che secondo me oggi è un po' sfuggito a molte persone è che questa sentenza qua non è che ha detto ragazzi da domani è finita la Champions League si fa la Superlega di Florentino Perez no la sentenza non ha detto questo la sentenza ha detto che qualsiasi qualsiasi ente in futuro a partire da oggi potrà chiedere alle squadre europee di partecipare a un torneo calcistico anche al di fuori della UEFA e questo mi dispiace ma è un cambiamento epocale non passerà non non verrà organizzata la Superlega di Perez e Agnelli fa lo stesso fra dieci anni ci sarà qualcun altro che guardando il giro di affari della UEFA vorrà venirsene a mangiare un pezzo perché la UEFA ragazzi ha dei ricavi annui che sono intorno ai 4-5 miliardi di euro ricavi che sono intorno ai 4-5 miliardi di euro io penso che sia un giro d'affari che possa interessare a parecchie persone magari non interesserà nessuno magari invece sì da domani da oggi c'è la possibilità che Tizio Caio Sempronio l'Unione dei Club Europei Perez Agnelli il Magnate indonesiano organizzino il loro torneo di calcio con le squadre europee senza che la UEFA possa rivalersi di questo quindi per me è un cambiamento epocale poi l'errore che può essere fatto è pensare che domani pensare che domani parte la Superlega di Agnelli no quello ovviamente no come con Bosman il calciatore ha potuto decidere dove andare a giocare ora i club possono scegliere dove andare a giocare esatto esattamente esattamente cioè se prima se prima appena esce il progetto Superlega la UEFA fa la voce grossa e ti dice guarda che tu non puoi partecipare se partecipi io ti punisco e quindi ovviamente è contro l'interesse di chiunque partecipare a un evento che mi punisce però da un'altra parte adesso quella cosa lì non può succedere quindi per me questo è un cambio epocale ciao ciao Paola oh è arrivato un po' in anticipo c'è già Lorenzo dietro le quinte Lorenzo posso farti salire già da subito perfetto perfetto Weila ciao benvenuto buonasera a tutti grazie per l'invito è un vero piacere essere qui con te e con tutti gli amici in ascolto e finalmente ci vediamo anche di persona perché per ora ci siamo solamente iscritti e quindi non abbiamo mai avuto a che fare a tu per tu però io ti dico la verità io è un paio di mesi che ti faccio la caccia nel senso guardo guardo i tuoi contenuti mi piacciono mi trovo spesso e volentieri d'accordo e avevo davvero intenzione prima o poi di portarti qui qui in live da noi ce l'abbiamo fatta ed eccoti qua quindi di nuovo benvenuto Lorenzo come stai? sei già in prima natalizio? sì 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 oggi poi è arrivato un bel regalo in anticipo quindi meglio di così non potremmo stare noi come tifosi giuventini ok immagino che tu ti riferisca alla sentenza ma ovviamente diciamo che è un bel regalo proprio perché intanto è un cambio epocale appunto nel mondo del calcio e soprattutto ci libra voglio proprio dire così dall'oppressione di FIFA e UEFA perché alla fine quando si parla di monopolio visto quello che appunto è stato scritto nella sentenza della Corte di Giustizia Europea finalmente siamo liberi è il caso di dirlo esatto cioè quello che secondo me il messaggio che è un po' io non so se stavi già ascoltando però un attimo prima che entrassi stavo dicendo che l'errore che molte persone stanno facendo oggi è pensare che questa sentenza automaticamente attivi già la cosiddetta superlega di Perez Agnelli domani non è così però questa sentenza dà la possibilità in futuro a qualsiasi ente che abbia la capacità economica di di farlo di organizzare qualcosa senza che la UEFA dica nulla esattamente hai spiegato nella maniera migliore possibile quella che è la sentenza non è che oggi parte di punto in bianco la Superlega semplicemente oggi la sentenza ha chiaramente sancito come nessuna squadra è sempre obbligata a dover sottostare alle regole di FIFA e UEFA per aprire per iniziare un nuovo torneo personale con altre squadre e allo stesso modo i giocatori delle squadre che prendono parte a questa nuova competizione non corrono più il rischio di essere stromessi dalle rispettive nazionali questo è il punto carne di partenza è lo stesso discorso si può stendere anche ai diritti televisivi e tutto quello che c'è dietro quindi semplicemente questo è il punto di partenza da oggi le squadre potranno iniziare finalmente un nuovo percorso dei nuovi tornei a parte rispetto a quelli di FIFA e UEFA punto semplicemente e a proposito a proposito di questo tu hai già visto quello che è appunto diciamo un po' la spiegazione teorica di come funzionerebbe quella che è la Superlega di Florentino Perez ma non sappiamo se sarà quel torneo lì però tu hai già visto bene o male il funzionamento ti sei fatto un'idea che ne pensi? a me onestamente piace molto ovvio ci sono ancora tutte le squadre da definire ma le sapremo a tempo debito sono 64 squadre divisi in tre stage in tre gruppi per così dire il quello più importante dove ci saranno 16 squadre divise in due gironi da 8 la serie in mezzo con altre 16 squadre sempre due gironi da 8 gironi all'italiana e l'ultimo con 32 squadre e qui ogni anno ci sarà un ricambio di 20 club 20 uscenti 20 che entreranno questa cosa mi piace tantissimo perché fino all'inizio l'ho creduto come se la Superlega fosse una competizione solo esclusiva senza la possibilità per altre squadre di accedervi invece ecco che si scopa essere il contrario quindi molto molto bene anche sotto questo punto di vista e sarà un torneo veramente interessante poi sicuramente dimmi no perdonami continuo pure anche perché appunto ci sarà la possibilità per due squadre ogni stagione di salire nella divisione superiore o di retrocedere per le due che arriveranno alla finale del torneo o le due che saranno le ultime classificate nei rispettivi gironi quindi ci sarà un continuo sali e scendi e anche questo secondo me contribuirà molto a tenere alta quella che sarà l'attenzione per questo nuovo torneo quando verrà fatto ovviamente perché adesso è tutto in divenire se poi verrà fatto così perché nessuno sa che cosa succederà ma qualcosa potrebbe succedere cioè comunque diciamo che al momento è aperto qualsiasi scenario perché ad oggi noi abbiamo questo esempio appunto della Superlega di Perez del Barcellona e di Agnelli ma nessuno esclude che un fondo arabo voglia anziché continuare per esempio a investire su magari calciatori anziani da portare nel loro campionato nessuno gli vieterà invece di investire direttamente qui in quella che sarebbe effettivamente una vera e propria competizione legale fatta fatta e finita ma a tal proposito visto che sei anche ben informato noi siamo stati in live anche oggi pomeriggio e non ci tornava non ci tornava una questione su quello che dovrebbe essere appunto il gruppo blu cioè il gruppo più basso con appunto su 32 sì 32 squadre queste 20 che retrocedono cioè è quel video che è riassuntivo e quindi non lo spiega ma invece nel regolamento c'è scritto perché quello che ci chiedevamo oggi è come vengono sostituite le 20 che retrocedono dall'ultimo tassello diciamo guarda ti dico la verità da quello che ho capito io semplicemente in base ai meriti sportivi ottenuti nel proprio campionato e comunque nelle rispettive competizioni quindi 20 retrocedono saliranno le 20 che hanno ottenuto i migliori risultati a prescindere da quelle che già fanno parte nei livelli superiori nel gold eccetera quindi sono squadre comunque fino a quel momento fuori dalla Superlega che grazie ai meriti sportivi ottenuti in quella stagione potranno accedervi ed è una cosa comunque importante perché 20 squadre non sono poche se consideriamo che nei campionati Serie A ci sono 20 squadre è come dire cambia un intero campionato così facendo a me piace molto sarò sincero a me piace molto perché vedere ogni anno nuove squadre che si alternano dando la possibilità a qualsiasi squadra di salire faccio un esempio banale ovviamente sappiamo che è uscito il comunicato dell'Atalanta e di altre squadre che per ora non vogliono parteciparvi l'Atalanta dovesse invece entrare retrocede può salire il Monza se quell'anno ottenuto risultati importanti il Monza nella Superlega capite bene che nel giro magari di un paio d'anni vedere già il Monza a giocarsi la Superlega con Real Madrid il Barcellona in base ai meriti sportivi potrebbe veramente fare effetto è una cosa molto interessante devo dire poi tutto da sviluppare eh no esatto perché appunto la cosa che appunto un po' non ci tornava era questa cioè tu hai fatto l'esempio dell'Atalanta facciamo che l'Atalanta nella stagione 24-25 sta nella casella del blu ok la blu come cavolo si chiama Blue League retrocede per dei meriti sport perché è perché è arrivata diciannovesima non lo so quindi retrocede ma se quell'anno lì l'Atalanta per esempio in campionato finisce seconda poi rientra comunque o quella roba lì ancora non c'è ben chiara teoricamente no perché se in una squadra che già faceva parte della Superlega ed è retrocessa dovrebbe essere estromessa di diritto e lasciare spazio a una squadra che per meriti sportivi anche se dentro in campionato nella rispettiva nel rispettivo torneo nazionale ha fatto bene quindi merita di entrare teoricamente poi ancora appunto è tutto da spiegare abbiamo visto ho visto anche quel video lì e fa chiarezza solamente in parte sul discorso in generale ancora molto molto da capire quale sia il fondo di tutto questo e secondo te a livello proprio concettuale questo tipo di Superlega che ad oggi ad oggi vede comunque al comando due club secondo te è la soluzione migliore oppure sarebbe ancora meglio qualcos'altro perché noi ti faccio ti faccio la domanda più semplice noi oggi pomeriggio abbiamo dipinto altri due scenari ovvero lo scenario in cui ma è impossibile tutti i club europei si mettono d'accordo in stile Lega Sportiva americana ok quindi tipo l'NBA e si fanno il loro torneo oppure un privato che con il calcio non c'entra nulla quindi appunto il fondo americano il fondo arabo eccetera eccetera secondo te quale anche proprio da un punto di vista poi dello spettacolo di cui usufruiremo noi tifosi quale potrebbe essere la soluzione migliore secondo te ma guarda sicuramente poter istituire una competizione a parte diversa da tutto il resto potrebbe fare la differenza proprio perché vediamo anche l'anno prossimo un nuovo format della Champions League con ancora più squadre si passerà a 36 è un numero veramente elevato con tante partite che sulla carta potrebbero anche risultare noiose quindi istituire una competizione a parte diversa potrebbe davvero essere la soluzione migliore il problema di base qual è? già è stato difficile arrivare al risultato odierno e ancora tutto in divenire ci tengo sempre a sottolinearla questa cosa perché la Superlega ad oggi non esiste ancora quindi già il passo che è stato fatto oggi grazie alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea è un passo fondamentale per adesso accontentiamoci di questo e vediamo poi quale saranno le linee guida disegnate da 22 Sports che appunto organizza questa competizione questa sarà sicuramente la cosa più importante da lì poi potremo cominciare a trarre le diverse conclusioni a dire se mi piace o non mi piace avrei preferito così sicuramente però una cosa a parte staccata rispetto alla Champions League Europa League di Conference League sicuramente sarebbe la scelta migliore ok ok ma anche perché stavamo pensando oggi che con questo format se arrivi fino in fondo se arrivi fino in fondo bene o male giochi le partite che giocheresti normalmente anche in Champions League se arrivi fino in fondo il punto è che in quello che è il cosiddetto girone cioè le partite che tu giochi per forza ne giochi più del doppio di quelle che giochi oggi perché il girone prevede 14 partite anziché 6 quindi tu hai 7 partite in casa in cui comunque e hai quindi 4 partite in casa in più nelle quali puoi permetterti un incasso importante perché comunque arriva la squadra europea e l'evento eccetera quindi ti faccio questa domanda un po' complottista ma tutti questi comunicati che stanno uscendo secondo te sono un po' di facciata dei club per dire alla UEFA di stare tranquilli ma in realtà se arriva una bella offerta la ascoltano oppure giurano fedeltà totalmente alla UEFA guarda io sono una persona che non tiene particolarmente come si suol dire al bill denari sono legato alla maglia e alle emozioni che crea questo sport ma in questo caso parlando di aziende perché le società odierne sono aziende devo per forza parlare anche di numeri nessuna società si può tirare indietro davanti a offerte importanti guardavo prima da un'occhiata agli introiti della Serie A alle rispettive squadre nella passata stagione solamente Napoli Milan e Inter hanno incassato poco più di 80 milioni di euro bene la Superlega ti garantisce in base alle prestazioni che si possono ottenere col vecchio modello quindi con questo nuovo format sicuramente saranno ancora maggiori gli introiti ma col vecchio modello tra 55 milioni circa e 250 milioni ora ditemi voi quale club sulla faccia della terra a parte quelli di Praver che già hanno soldi lasciamo perdere esatto loro sono un discorso a parte esatto tranne loro e forse il Paris Saint Germain perché ovviamente essendo sotto anche la IFE normale quali altri club in Europa possono rifiutare queste cifre ovvio davanti ai rispettivi torni nazionali devono fare la bella faccia mettere il comunicato no noi ci asteniamo siamo convinti che i progetti di UEFA e FIFA siano sempre le cose migliori come da 70 anni a questa parte però io faccio l'esempio se arriva l'offerta per così dire di 150 milioni per l'Inter per la Roma per la Lazio questi club possono rifiutare o hanno la forza economica di poter dire di no avendo alternativa da altre parti io non credo proprio poi e poi questa cosa qua appunto potrebbe anche servire per gli stessi club come leva di forza nel momento in cui devi sederti con la UEFA perché perché prima la UEFA non poteva avere concorrenza oggi oggi gli si può ipotizzare cioè nella mente di chi gestisce oggi ieri o chi gestirà domani la UEFA è comunque aleggia il fatto che non ce l'hai più solamente te il giochino in mano cioè per ora ce l'hai in mano te ma se arriva qualcuno veramente bravo e con un progetto che veramente funziona e sto giochino te lo può portare via quindi questa cosa qua anche per i club secondo me sarà una leva di cioè verrà usata eventualmente come anche in trattativa con la UEFA quando ci sono magari da ridiscutere la spartizione dei diritti e cose di questo genere vabbè 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 il pinto io lo dico dico pinto perché sappiamo che la Juventus doveva per forza fare certe dichiarazioni o rilasciare quella specie di comunicato per mettersi d'accordo con la UEFA e con Seferin per poter mettere a tacere tutta la questione e rimanere fuori quest'anno dalla Conference League per poter giocare l'anno prossimo la Champions bene in realtà la Juventus ad oggi fa ancora parte del progetto Superlega l'unica squadra che alle 12 di partenza ad essere uscita sembra essere proprio l'Inter quindi in realtà anche le spagnole le inglesi fanno ancora parte della Superlega del progetto iniziale ripeto e sono curioso anche su questo perché tutte queste squadre a dire anche l'Atletico Madrid tra l'altro no noi non vogliamo farne parte vogliamo continuare a giocare la Champions le competizioni europee standard però come mai nessuno ancora effettivamente ha fatto nulla io a questo ci penso sono passati due anni mi sembra da quando da quella magica quasi due anni quasi due anni notte e quindi forse forse il tempo per poter uscirne ne avevano la sufficienza e invece guardate caso siamo ancora qua a parlarne con queste squadre che mettono ancora comunicati ma sono ancora lì ad aspettare anche questo è un sintomo dal mio punto di vista di come la situazione per tutte queste squadre non sia molto chiara tra l'altro per rispondere anche a quello che stavi dicendo prima Seferin mi è sembrato molto stizzito dalla sentenza della corte di giustizia oggi tra le dichiarazioni varie di facciata non è riuscito a resistere nel dire spero inizi presto questa nuova competizione sono curioso di vedere come sarà con solo le due squadre ha un po' di paura forse sicuro un po' di paura perché Lorenzo se tu fossi l'unico ente che gestisce un giro di affari che ti fa fatturare 5 miliardi di euro e oggi ti dicono ma lo sai che da domani può venire a mangiare anche qualcuno con te è ovvio che sei un po' un po' stizzito c'è una sub da ringraziare che è quella di Ezio Pregio grande grande Ezio grazie mille che ci scrive mi fermo solo per poco perché Matteo Montesi sta streamando io non sapevo neanche che esistesse più Matteo Montesi vabbè andiamo andiamo avanti comunque grazie per la tua sub Enzo quanto fai con noi fai 14 mesi grazie grazie davvero e quindi dicevamo appunto la Juve non ha parlato perché come giustamente dici te il comunicato di luglio non era un comunicato vero e proprio di uscita cioè si diceva che la Juve aveva comunicato al Barcellona al Real Madrid che avrebbe iniziato l'iter per uscire però io non lo so se poi sono andati da un notaio o da chi devi andare e abbiano firmato effettivamente questa roba io non credo anche perché io è un settore che non conosco però oggi gli investitori hanno puntato forte sul titolo Juventus quindi gli investitori pensano che questa cosa qua che la sentenza di oggi porterà dei benefici alla Juve quindi siamo ancora lì Lorenzo ma ovviamente io ti dico ne so quanto te a livello di burocrazia in questo caso quindi non mi esprimo oltre mi baso come sempre sui numeri appena uscita la sentenza il titolo in borsa della Juve è salito del 6% verso mezzogiorno era intorno al 10% e verso le 3-3 e mezza del pomeriggio intorno al 16% sempre dato per dichiaramente questo significa che evidentemente io ne posso sapere poco ma chi fa parte come investitore della Juventus quotata essendo quotata in borsa qualche notizia in più ce l'ha e se il titolo è salito così in maniera così importante è perché forse forse non siamo usciti dal progetto anzi siamo ancora lì pronti quando sarà pronta la Superlega a cominciare questo torneo va bene va bene va bene e ultima domanda ultima domanda prima di poi passare magari un pochettino più a questioni a questioni di calcio vero e proprio è un po' una rivincita per Andrea Agnelli questa ovviamente oggi è tornato a parlare si ha messo un bellissimo post con le note di una canzone sulle note di una canzone degli U2 scrivendo il nostro motto fino alla fine si io la definisco la grande rivincita di Agnelli perché alla fine il calvario del CDA della Juventus e prima ancora di lui per Agnelli come persona è iniziato proprio in quella notte quando ha deciso lui di comunicare l'entrata in vigore di questa nuova competizione e guardate cosa è successo poi questa è la sua grande rivincita perché lui ci aveva visto lungo in collaborazione ovviamente con Perez La Porta e compagnia questo cosa vuol dire che Agnelli aveva ragione lui sapeva cosa stava andando incontro al calcio europeo tra l'arrivo degli Arabi la Premier League che stava diventando una superlega a parte dell'Europa e ha avuto ragione ha avuto ragione e oggi finalmente lui lo può dire per primo io ero lì ho iniziato un progetto in molti non mi hanno voluto seguire anche a livello di stessi tifosi bianconeri perché molti erano contrarie a questo progetto invece alla fine ha avuto ragione lui io sono molto molto contento perché per carità riconosco che negli ultimi due tre anni come presidente della Juve a livello di Conti ha fatto alcune cavolate ma nove scudetti di fila non si dimenticano e soprattutto dopo nove scudetti comunque compirlo è arrivata lo stesso una Supercoppa Italiana una Coppa Italia quindi dieci anni di trofei io non li dimentico e lo ringrazierò per sempre no no certo poi nel momento nel momento in cui comunque si ha anche l'onestà intellettuale di riconoscere che come qualsiasi dirigente ha dei meriti ma anche dei demeriti poi ovviamente il discorso è assolutamente è assolutamente legittimato allora partiamo un po' invece adesso passiamo un po' al calcio proprio alla palla alla palla che rotola nel campo tu non ti fai problemi nei tuoi video a criticare quello che può essere appunto il gioco di Allegri o il non gioco di Allegri da questo punto di vista ti dico che qua ti puoi sentire a casa quindi dimmi dimmi un po' la tua però non ti voglio far partire così a grandi linee ti faccio una domanda un po' più specifica ecco ecco quest'estate ti saresti aspettato una Juventus in questa posizione di classifica ad oggi in questo momento? guarda parto col dire che io intanto dico sempre quello che penso senza peli sulla lingua perché sti mi piace quando arriva il nuovo iscritto quando arrivano i commenti ma me interessa essere me stesso io voglio piacere per come sono quindi se dico viva Allegri facciamo il calcio più bello del mondo quando in realtà è sotto gli occhi di tutti le partite che disputa la nostra Juventus risulta anche ipocrita quindi io dico sempre quello che penso quindi ti dico sì me l'aspettavo una Juventus al secondo posto per fortuna ci sono video che lo testimoniano quindi me l'aspettavo perché intanto col fatto che non disputiamo le competizioni europee abbiamo un enorme vantaggio sulle nostre dirette avversarie è vero non abbiamo fatto mercato però la rosa io non la reputo così scarsa abbiamo la prima difesa se non una delle prime tre difese a livello di forza di questa Serie A e in attacco è vero che siamo sterili ora come fase realizzativa 5 gol Vlaovic 5 Chiesa 2 Milik e 0 ancora Ken i due gol col Verona sono una parentesi a parte ovviamente però a livello di attacco chi ha un parco attaccanti così ampio senza contare Hildiz e Healing Junior anche se sembra essere in partenza ma anche questo è un altro siamo un po' in difficoltà a centrocampo per le questioni fagioli e Pogba però se io me l'aspettavo una Juve al secondo posto perché non so come spiegarlo siamo io penso che siamo forti come squadra so che questa squadra può fare molto e soprattutto potrebbe fare molto meglio se riuscisse ad avere anche un gioco efficace in fase offensiva e poi se guardiamo le statistiche bene o male facciamo sempre 3-4 tiri a partita e 1 o 2 gol quindi siamo anche abbastanza cinici mi chiedo riuscendo a fare magari il doppio dei tiri 8-9 cosa potrebbe succedere? esattamente 3-4 gol a partita però ovviamente questa è un'ipotesi che ora come ora non può valere perché sappiamo che c'è Allegri in panchina Allegri preferisce concentrarsi sulla fase difensiva fare l'1-0 e coprirsi subito arroccarsi in difesa all'interno della propria area di rigore tutto al più al limite dell'area e questo inevitabilmente porta gli attaccanti alcuni come Chiesa ad abbassarsi altri come Vlaovic o Milica rimanere lì davanti come unica punta di riferimento a fare sportellate a 50 metri dalla porta avversaria diventa molto difficile per tutti riuscire a giocare così e oltre il fatto che appunto non pensi che abbiamo una rosa scarsa non lo penso neanche io e che non abbiamo le coppe tu pensi anche che effettivamente il livello della Serie A si sia abbassato e quindi anche per questo una Juve che gioca così e che si esprime così è comunque attaccata all'Inter ovviamente sì io reputo il livello della Serie A davvero basso poi molti mi diranno tu dici così ma l'anno scorso sono arrivate tre squadre italiane in tre finali differenti nelle tre competizioni europee verissimo ricordiamoci però com'era il tabellone in Champions League da una parte Chelsea Bayern Monaco Manchester City e non mi ricordo che era la terza sposata e dall'altra Inter Napoli Milan e Benfica era al minimo che una squadra italiana arrivasse in finale di Centos idem in Europa League Sport in Lisbona Juventus Manchester United di Sibiglia da una parte dall'altra Roma Bayern Leverkusen che non è quello mostruoso di questa stagione ma decisamente più inferiore come qualità Union Saint-Gilouin e Feyenoord quindi anche la Roma era al minimo arrivasse in finale in Europa League la Fiorentina per livello in conference doveva arrivare per forza in finale quindi tendo invece a guardare in questa stagione perché voglio vedere proprio come faranno l'italiano in Champions con la Lazio che ha incontrato il Bayern Monaco l'Inter l'Atletico ancora una volta l'Inter fortunata se vogliamo dire così nei sorteggi ha preso la più scarsa tra quelle della prima fascia e il Napoli nuovamente il Barcellona quindi sicuramente l'italiano quest'anno sono chiamati alla prova del 9 e anche se l'Inter dovesse passare i quarti voglio proprio vedere per tornare scusa tutta questa enorme parentesi vai vai sei qui apposta sei qui apposta sei qui apposta non ti preoccupare poi devi sapere che a me mi rompono sempre le palle che interrompo che interrompo gli ospiti quindi sto cercando di automigliorarmi quindi tu non ti preoccupare tu se devi andare a ruota libera vai a ruota libera fantastico chiudo semplicemente dicendo che il livello della serie per me è basso perché io cerco sempre di attenermi a delle linee guida io reputo un campionato bello interessante in base a quanti giocatori di livello ci sono se guardo nella nostra Juventus quanti fenomeni ci sono ad oggi forse uno per me potrebbe diventare un fenomeno lo dico senza problemi al di là di quello che stiamo vedendo ora però per me è un giocatore interessante ci sono un altro allenatore esattamente e volevo arrivare lì infatti dopo sì ma ci sta ci sta ecco Chiesa potrebbe essere un possibile campione magari sì punto finito alla Juventus guardiamo l'Inter c'è Lautaro poi c'è la Noglu sta facendo molto bene però non lo reputo un fenomeno finito anche l'Inter se guardiamo poi nella Roma c'è Lukaku Di Bala però anche la Roma insomma nella Serie A è povera di campioni ha tanti giocatori magari interessanti forti ma non campioni o fenomeni e questo è un parametro che per me dimostra come il livello della Serie A si è a basso a differenza di altre squadre in altri campionati che possono vantare tanti elementi di livello la Serie A ad oggi e lo dimostra anche la difficoltà con cui ha venduto gli introiti televisivi a cifre comunque veramente modeste anche questo è un sintomo se io ho dei giocatori di livello con delle strutture di livello ma questa appunto è un'altra parentesi importante perché sta di vecchissima parte il nostro quello dell'Atalanta il Gavis Stadium quello dell'Udinese ma tutti gli altri sono stati vecchi il calcio italiano è vecchio sia come mentalità sia come giocatori l'Inter leggeva una statistica imbarazzante è la seconda squadra più vecchia tra quelle che l'anno scorso sono andate avanti in Champions League una statistica che fa capire come il livello anche dell'età sia veramente pericoloso al giorno d'oggi il panorama europeo si avvicina sempre di più ad avere un'età media più bassa possibile noi invece siamo età media sempre più alta e questo non va bene siamo proprio controcorrente rispetto a quello che è l'Europa al giorno d'oggi calcisticamente parlando a proposito di questo secondo te dato che adesso non vorrei dirti la mia opinione perché non vorrei influenzarti allora facciamo così non te la dico e ti faccio questa domanda dato che non abbiamo i capitali per attirare i campioni come vent'anni fa quindi non possiamo più permetterci Ronaldo il fenomeno Caccaro Naldigno Zidane eccetera eccetera e chi più ne ha più ne metta quale potrebbe essere la soluzione per rendere più appetibile sta roba qua non solo in Italia ma anche all'estero perché venticinque anni fa la serie A la guardava tutto il mondo oggi ovviamente no quindi dato che non ci sono i soldi quale potrebbe essere la soluzione per te questa è una domanda veramente come si suol dire delle cento pistole perché appunto se non hai giocatori di livello che vengono faccio l'esempio il di Maria della passata stagione da noi allora diventa difficile che persone ma anche gli stessi bambini in Italia al di là delle persone fuori dall'Italia possano avvicinarsi al calcio italiano comprare i diritti televisivi per guardare le partite è molto complicato dal mio punto di vista in primis se dovrebbe rinnovare le strutture gli stadi perché ce ne sono alcuni che veramente non voglio dire che cosa sembrano perché fanno veramente pietà e mi spiace dirlo se dovrebbe rinnovare intanto le strutture perché quando c'è la presentazione delle squadre che entrano in campo colpo d'occhio sullo stadio vedi alcuni stadi in Germania in Francia in Inghilterra che sono meravigliosi e fa spettacolo già loro da soli esattamente da quello vale tanto io sono convinto che il punto di partenza per ricominciare da capo per rendere di nuovo appetibile il campionato italiano sia provare veramente a coltivare dei talenti nelle proprie cantere nei propri settori giovanili perché se vuoi comprare dei giocatori forti ora come ora devi avere veramente tanti soldi il Musiala Bellingham Foden di turno non te li vendono a meno di 30 milioni esattamente quindi quale club di Serie A può permettersi questi giocatori l'unico modo è trovare dei baby fenomeni nei propri settori giovanili e ce ne sono perché ce ne sono farli crescere e così già rendi più interessante il tuo campionato questo è il punto di partenza sicuramente al contempo se riesce a prendere qualche vecchia gloria per così dire evitare che vada a finire in Arabia Saudita a 20 milioni o 30 stagione anche di più in alcuni casi come Benzemane in mare e compagnia sicuramente potrebbe essere un aiuto però guardate faccio un esempio banale il Milan è riuscito a prendere comunque un giocatore come Pulisic che è giovane nonostante la media di altri giocatori arrivati in Italia negli ultimi anni che comunque sta facendo la differenza per il club rosso nero un giocatore di livello io dico mondiale perché comunque al di là della titolarità nella nazionale degli USA degli Stati Uniti ma è un giocatore che ha vinto la Champions League con il Chelsea già il Borussia Dortmund comunque aveva fatto parlare di sé riuscire a prendere e fare dei colpi di mercato mirati di questo tipo con giocatori di livello internazionale anche se non sono fenomeni comunque potrebbe aiutare a far crescere il brand o comunque avere un occhio di riguardo per alcune squadre e direttamente quindi sul campionato italiano la mia opinione guarda sono d'accordo con tutto ma ti aggiungo un pezzo che era proprio il pezzo che non volevo aggiungerti perché tu giustamente dici bisogna andare a scovare magari il ragazzo giovane dalle giovanili magari di qualche campionato sconosciuto che poi ti può portare dello spettacolo in campo il problema qual è? il problema è quello di cui parlavamo prima cioè se poi tu hai parlato appunto di giovani promesse e quindi io ti faccio l'esempio se poi il sull'e di turno e l'ildiz di turno non riescono effettivamente a trovare spazio necessario allora il problema la soluzione non dovrebbe essere una comunione di intenti di tutte le squadre nella proposta di gioco cioè ovviamente un contratto non lo puoi firmare perché non è che puoi firmare un contratto dove scrivi che tutte le squadre devono fare un certo tipo di calcio però però se una volta tanto i presidenti di A fossero d'accordo fra di loro e non guardassero solamente al loro orticello non potrebbero veramente stabilire che la rotta da seguire è quella cioè cerchiamo pian pianino di avere tutti lo stadio di proprietà cerchiamo pian pianino di avere tutti le strutture giovanili cerchiamo pian pianino quindi di avere degli allenatori moderni cioè potrebbe cioè tu che peso dai al calcio che esprimono gli allenatori oggi in Italia io do un peso veramente molto alto perché gli allenatori non sono faccio l'esempio Allegri Persona Inzaghi Persona Pioli Persona alle loro spalle ci sono staff di 20-25 elementi quindi l'allenatore inteso allenatore con il suo staff ha un peso importantissimo io addirittura lo do intorno al 50% giusto per rendere l'idea ha un peso veramente elevato all'interno della società e quindi sul campionato sicuramente quello che hai detto te è un punto cardine perché la proposta di gioco influisce molto la Premier League è spettacolare perché ha giocatori di livello assoluto ma anche perché propongono un gioco ad altissimi livelli nonostante le partite non finiscano 1-0 finiscano con molti più gol sia fatti che subiti quindi delle difese ballerine per così dire però io un paio di settimane fa due o tre settimane fa ho visto Manchester United Chelsea terminata 2-1 per lo United si direbbe qui in Italia vittoria per Cortomuso con la differenza che in Italia vediamo la vittoria di Cortomuso facendo due tiri in porta un gol e vinciamo 1-0 lì ci sono stati qualcosa come 10 tiri nello specchio della porta per lo United 8-10 anche per il Chelsea quindi a livello di spettacolarità una partita di livello nettamente superiore e non serve ripeto avere quei fenomeni perché se anche in Italia vediamo delle partite faccio un esempio Verona-Empoli quindi livello nettamente inferiore ma la proposta di gioco interessante è dell'allenatore che mette in campo un proprio gioco che rispecchia le sue caratteristiche e quello che sono i giocatori deve trovare il giusto mix quindi se vediamo delle partite interessanti anche a questo livello sicuramente il campionato italiano come proposta come appeal risulta molto più interessante agli occhi di tutti chiaro no no è chiaro ma tu hai citato Allegri ma ce ne sarebbero cioè pensiamo anche a Mourinho pensiamo anche a Mourinho no e a quella che è la proposta ancora attuale di Mourinho come mai però come mai però molti tifosi o molti appassionati di calcio invece ti dicono ma sai che c'è a me sta roba va bene a me va bene anche vedere un 1-0 e 80 minuti la mia squadra che soffre in aree cioè secondo te è un'abitudine è presa di posizione a prescindere che ideologia mentalità sì il termine giusto l'hai utilizzato è ideologia io aggiungo mentalità purtroppo per quello che ha insegnato la storia l'italiano difficilmente cambia le proprie radici cerca di cambiare se stesso noi andiamo bene così come siamo e lo dimostriamo anche nel campionato italiano cosa succede ogni volta se si vince 1-0 fa niente se si è giocato bene male non ha importanza l'importante è vincere poi succede episodi arbitrali a parte ovviamente quello è un capitolo che vorrei non aprire mai perché a me piace parlare di campo Genoa Juve guarda anche noi noi un po' più ci repelle l'argomento arbitri polemica var Genoa Juve l'ultima partita di campionato è finita 1-1 non è arrivata la vittoria contro il Monza abbiamo vinto 2-1 sì nel finale grazie ad una lezione di Nervi anche con la partita ha rischiato di finire solo 1-1 quindi lo spettacolo io non voglio vedere tutti i passaggi di prima al tikitaka del vecchio Barcellona di Guardiola avere una proposta di gioco sicuramente diversa maggiormente offensiva che porta a quel punto un po' di spettacolo perché inevitabilmente ti scopri sì ma se subisci un gol puoi anche farne due giocando in questo modo è la mentalità della Premier League della Bundesliga dei diversi campionati top europei sicuramente a livello di spettacolarità concedimi sto termine può fare la differenza no no ma te lo concedo e come ma tra l'altro io cioè tu devi sapere questo io qua dentro Live Bianconera io sono il tifoso di pancia ok i tifosi gli analyst sono altri io sono più più il tifoso di pancia e quindi da tifoso di pancia ad esempio dato che tu prima mi hai detto che la rosa è buona ok questa squadra qua può veramente giocare solo così no no io lo dico sempre senza problemi anche perché vediamo il gol con la Fiorentina è un gol bellissimo bellissimo che arriva a inizio partita e poi scientificamente noi scegliamo di chiuderci per i restanti 80 minuti nella nostra area di rigore perché non ci sono squadre che possono giocare in un unico modo io parto dal presupposto che un allenatore deve mettere in campo quelle che sono le sue idee adattandole ai giocatori che ha a disposizione Vlaovic è un attaccante che potrebbe essere devastante lanciato nello spazio questa Juventus gioca in modo totalmente opposto alle caratteristiche di Vlaovic e infatti si vedono i risultati il problema qual è un allenatore deve sapere coniugare la sua mentalità a quelli che sono i suoi giocatori una Juventus quella contro il Genoa parto proprio facendo questo esempio l'anno scorso sentivo dire ma no non si può pressare alti con questa squadra non abbiamo la gamba non abbiamo la qualità non abbiamo la forza quest'anno partita contro il Genoa ma anche la prima di campionato contro l'Udinese abbiamo visto una squadra che quando pressa alto può rubare palla o può far commettere errore alla difesa avversaria procurarsi rigore fare gol Vlaovic che la passa a Chiesa gol di Chiesa contro l'Udinese quindi una squadra che volendo può avere alternative a livello di proposta di gioco questo cosa vuol dire? banalmente faccio l'esempio della Salernitana ultima in classifica del Lecce del Monza che comunque sta disputando un buon campionato del Bologna qualitativamente sono tutte squadre di Bologna che adesso è quarto in classifica pazzesco certamente sono tutte squadre qualitativamente nettamente inferiori a noi però come mai la proposta di gioco anzi il gioco che mettono in campo è nettamente migliore sicuramente perché hanno degli allenatori che sanno plasmare un gruppo si sanno far seguire si sanno far ascoltare e di conseguenza questa coesione questa amalgama di cui parlavo prima riesce a esplodere nella maniera migliore possibile con risultati per il Bologna se poi Salernitana Lecce veramente qualitativamente sono squadre mediocre mi spiace dirlo per queste squadre con rispetto ma in realtà fanno molta più fatica ma un Lecce che inizia stagione era partito molto bene Salernitana è un discorso a parte perché ci sono delle questioni dietro però dirigenziali anche certo esattamente ecco qualsiasi squadra con un allenatore al posto giusto al momento giusto con la giusta mentalità può fare veramente stagioni importanti il Bologna nella dimostrazione Zirkze l'anno scorso ha fatto molta fatica aveva un partner d'attacco come Arnautovic ma lo stesso non riusciva ad emergere quest'anno Tiago Motte è riuscito a metterlo al posto giusto come prima punta ma farlo agire secondo le sue caratteristiche quindi più come falso Nueve e il risultato si vede e idem tutto il resto della squadra il Bologna quest'anno sta facendo veramente qualcosa di impressionante chi l'avrebbe pensata questa squadra al quarto posto quasi a metà anzi a metà del girone d'andata ma tu pensi che reggeranno o avranno un calo secondo te? dipende tutto da quanto andranno avanti le big italiane nelle rispettive competizioni europee se il Milan dovesse uscire faccio l'esempio agli ottavi e quarti io mi aspetto una risalita comunque del calderosso nero la Roma è un'altra squadra che io tendo a non sottovalutare mai perché se Di Bala riesce un minimo a sistemarsi a livello di condizione fisico-atletica e Lukaku si fa trovare al posto giusto al momento giusto perché ogni tanto anche lui stecca le partite lo vediamo un po' in ombra come contro l'Inter se la Roma riesce a ritrovarsi può essere veramente l'outsider il Napoli io l'ho detto fin dall'inizio reputando Rudy Garcia il peggior allenatore di questa serie ci avrei scommesso e la scelta di Mazzari è ancora più scelerata un allenatore veramente vecchio stile in Italia abbiamo tanti allenatori mediamente vecchi Mazzari e Ragneri su tutti vedo allenatori italiani a parte Ancelotti in Europa giovani che stanno facendo molto bene De Zerbi con il Brighton passato come primo in Europa League Farioli con il Nizza che è secondo in classifica nel campionato francese e giustamente mi dite cosa sarà mai il campionato francese ok però il Nizza non è il Paris Saint Germain o il Monaco quindi sicuramente allenatori italiani giovani che stanno facendo bene fuori dall'Italia allenatori con esperienza ma di una certa età con una mentalità vecchia che in Italia stanno facendo molta fatica ok ok ne approfitto allora per ritornare abbiamo chiudiamo un attimo qua la parentesi Bologna tu quindi dai daresti ancora fiducia a Vlaovic perché sai che è sempre ovviamente è sempre il giocatore un po' più bersagliato dalla critica forse forse paga paga la sua tenuta psicologica che magari non è non è una tenuta psicologica diciamo di quelle che proprio ti impressionano perché in più occasioni ha dimostrato di avere delle fragilità però tu gliela daresti comunque una chance Vlaovic è un giocatore scusami una chance mettiamo alla Juve con un altro allenatore ovviamente quello intendo ovviamente sì Vlaovic ha dimostrato nella Fiorentina con l'italiano con una squadra che giocava per lui di essere devastante ha dimostrato nei primi sei mesi alla Juventus avendo una spalla come Di Bala di poter fare la differenza in quella stagione Di Bala è stato il nostro miglior marcatore con dieci gol Morata nove Vlaovic metà stagione sette parlando solo di campionato ovviamente cosa vuol dire che se hai una squadra che gioca per te o anche solo un giocatore come Di Bala che ti gravita intorno e ti sa far arrivare palloni importanti anche Vlaovic può fare la differenza in una Juventus come quella odierna moderna con un calcio all'antica con l'attaccante e vale anche per Milik e per Ken attenzione perché i numeri parlano chiaro purtroppo gli attaccanti sono sempre isolati lasciati da soli contro gli avversari quale attaccante può fare la differenza? Nessuno perché è la prima punta normalmente a meno che non ti chiami Mbappé o Messi che prendi palla ma se sei la prima punta alla Holland per rendere l'idea hai bisogno di giocatori che ti fanno arrivare quanti più palloni possibili nella stessa partita se io devo valutare Vlaovic Ken e Milik per uno parla due occasioni a partita se segnano voto otto migliore in campo se sbagliano voto quattro peggiore l'attaccante vive per il gol Vlaovic che a parte la partita contro l'Inter sono diverse giornate che fa fatica e non segna un attaccante che non segna già normalmente va in paranoia fa molta fatica ancora di più se hai un gioco che è totalmente l'opposto a quello che sono le tue caratteristiche giochi 50 metri spalla la porta e l'allenatore non solo ti obbliga a fare questo gioco ma puntualmente intorno al 60 65esimo ti sostituisce sempre io sfido qualsiasi attaccante a rimanere lucido nell'arco della stagione per rispondere alla tua domanda sì con un altro allenatore un allenatore con idee moderne che pratica un calcio offensivo perché se devo mandare via Allegri e prendere un allenatore che gioca al suo stesso modo Simeone per fare l'esempio per la tante allora non ne vale la pena perché riesco a chiedere Vlaovic a prendere X soldi perché ovviamente si farà una minusvalenza perché Vlaovic da adesso chi ti dà 75 milioni di euro nessuno quindi se deve arrivare un allenatore con nuove idee moderno gioco all'offensiva allora tengo Vlaovic e me lo tengo stretto perché ha delle potenzialità importanti secondo me se deve rimanere allegri o arrivare un allenatore simile a lui allora Vlaovic è sprecato come giocatore e come testa in questa Juve è chiaro è chiarissimo guarda l'esempio che facciamo noi oggi o in questo periodo sono due gli esempi di Higuain che la stagione al Napoli fa una caterva di gol ovviamente ricevendo anche una caterva di occasioni da gol mentre invece la stagione dopo con noi forse arriva alla metà dei gol fatti e l'esempio più eclatante che secondo me ci racconta quello che è il calcio di Allegri secondo me l'esempio più eclatante è Cristiano Ronaldo perché Cristiano Ronaldo in quella stagione con Allegri è probabilmente la stagione meno realizzativa da quando da quando poi comincia a un certo punto a fare lasciamo perdere agli esordi ok però diciamo che è la stagione in cui lui fa effettivamente meno gol e il che ci dice cioè questo ci racconta come veramente gli attaccanti facilmente possono essere giudicati o valutati quando sono nelle mani di Allegri però quindi però allora ti faccio ti faccio un altro un'altra domanda i centrocampisti i difensori invece che cosa stanno facendo di più cioè un Rabiot secondo te ad esempio è all'altezza di quello che ha fatto l'anno scorso ovviamente no Rabiot l'anno scorso è stato il vero trascinatore di questa Juventus perché anche quando Vlaovic per dire aveva problemi di pubalgia Chiesa non era ancora rientrato del tutto dall'infortunio al ginocchio Milica anche lui un po' giocava un po' no Rabiot è stato il vero trascinatore forse quest'anno che è a centrocampo si è trovata comunque la quadra volendola vedere in questo modo non puoi contare su Pagioli ne Pogba Locatelli in cabina di regia Allegri non se lo scorderà mai l'altra mezzala bene o male sempre McKennie sugli esterni cambiasi costi ci hai trovato le giuste misure Rabiot forse in qualche modo non dico si senta messo da parte perché è sempre titolare e gode dell'assoluta fiducia da parte dell'allenatore però non sente più di dover spingere di dover essere quello a fare la differenza di dover essere il perno su cui ruota tutta la Juventus poi con il Monza è stato lui a fare la differenza non dimentichiamo ce lo vuole assist giusto dare a Cesare quel che di Cesare però Rabiot questa stagione lo vedo anche a livello di prestazioni in sé oltre che per il gol quindi a livello numerico anche sulle prestazioni alterna partite dove corre si impegna recupera palloni ad altre dove in ombra fa fatica non è il Rabiot della passata stagione sicuramente molto influisce anche il contratto Rabiot in scadenza lo sappiamo voci di mercato su di lui ce ne sono sempre da top club soprattutto inglesi e c'era anche il Paris Saint Germain l'anno scorso quindi sono anche curioso di vedere la Juventus come svilupperà questo tipo di rapporto con il giocatore e con sua madre quindi sicuramente Rabiot sarà un nodo focale del centrocampo della Juve e non escludo che molto dipenderà anche da Allegri perché Allegri dovesse rimanere allora anche Rabiot dal mio punto di vista potrebbe rimanere esonero di Allegri allora Rabiot lascerà la Juve credo questo di poterlo affermare perché il rapporto tra allenatore e giocatore tra loro due è molto forte davvero saldo quindi potrebbe succedere qualsiasi cosa infatti poi poi ti chiedo ti chiedo anche del futuro passiamo passiamo alla difesa invece allora secondo me Bremer è fortissimo concordo io credo che allora non credo non credo che sarà quello che potrebbe diventare in futuro DeLitt perché io per DeLitt avevo un pallino proprio gli volevo proprio bene a DeLitt però Bremer sta facendo molto molto bene però anche lì ma lo stesso Gatti magari ogni tanto c'è qualche sbavatura ma la domanda che ti voglio fare è questa Lorenzo noi ci possiamo permettere da qua a maggio di chiedere a Bremer a Gatti e a Danilo di fare un lavoro difensivo come quello che stanno facendo oggi cioè con la palla sempre lasciata all'avversario e quindi loro che bene o male si devono fare 90 minuti in apnea 90 minuti super tirati super concentrati perché appena ti giri rischi l'imbucata perché stai aspettando la squadra nella tua area ce la fanno arrivare fino alla fine della stagione con questi ritmi guarda la risposta semplice sarebbe sì ce la faranno a me piace ragionare però partendo al contrario e quindi andando ad esclusione sul mercato in difesa la Juventus attingerà prenderà qualcuno difficile se la Juventus farà un colpo lo farà a centrocampo quindi sicuramente a livello difensivo non si toccherà il reparto arretrato il campionato andrà avanti alcune italiane verranno eliminate dalle competizioni europee ma dovendo fare turn over perderanno sicuramente energie e quindi con giocatori mediamente più scarsi magari riusciranno a tenere il passo i nostri difensori sicuramente la difesa dovrà reggere fino alla fine è obbligata perché Allegri come gioca lo sappiamo tutti lo conosciamo tutti calcio difensivo allo stato puro quindi segneremo un gol poi ci arroccheremo in difesa e la difesa dovrà resistere quindi sì resisterà fino a fine stagione proprio per questo dubito Allegri deciderà di snaturarsi passare dal 3-5-2 conservativo ad 1-4-2-3-1 come fece nell'anno della finale di Cardi non hai quei giocatori per poterlo fare o ce li hai ma sono giovani ipoteticamente parlando 4-2-3-1 Ildiz trequartista chiesa healing sulle fasce Vlaubic questo sarebbe l'unico modo ma a me gasa solo gasa solo a pronunciarla ci siamo capiti ci siamo capiti sono a favore dei giovani però capiamo che purtroppo healing verrà ceduto sul mercato a gennaio al 90% Ildiz potrebbe andare a finire insieme a Huizen al Frosinone c'è questa possibile pista quindi attenzione e quindi si continuerà col 3-5-2 ergo in fase difensiva la Juventus continuerà a giocare sempre allo stesso modo quindi devono resistere la fortuna e qua mi mordo la lingua mentre lo dico è che abbiamo visto nella parentesi in cui Danilo è stato fuori Rugani tutto non ha fatto male anzi si è destreggiato abbastanza bene io lo dico senza problemi l'ho detto prima non ho peli sulla lingua non sono un grande stimatore di Rugani anzi mi chiedo ancora cosa non ti piace di lui perché noi ad esempio gli critichiamo di aver preferito restare nel fiore della carriera all'ombra della BBC piuttosto che mettersi in gioco in qualche altra realtà non so se è anche questo il tuo pensiero è verissimo questo è sicuramente uno dei punti che condivido l'altro è il mio pensiero che se sei alla Juventus il giocatore non si può limitare a fare il compitino è la stessa cosa che ho in prova la Desciglio ma anche altri giocatori sei arrivato alla Juventus sei nel top club italiano per eccellenza insieme al Milan se vogliamo dire così l'Inter la metto sempre un passo indietro però sei nel top club italiano per eccellenza non puoi limitarti a fare il compitino devi provare a fare qualcosa in più devi migliorare te stesso e aiutare la squadra a migliorare Rugani è sempre fermo allo stesso punto Rugani non ha mai fatto uno step in positivo in avanti è sempre quel giocatore che è arrivato che ha la partita buona ti commette l'errore e rischi di perdere la partita per fortuna in queste gare che ha giocato quest'anno ha fatto tutto sommato bene ha anche segnato un gol ero anche allo stadio in quella partita quindi veramente è stata una cosa allucinante per i miei occhi ma meglio così però Rugani è questo non ti farà mai la differenza e alla Juventus devi ambire devi avere proprio quell'orgoglio quella motivazione quella che ha Gatti quest'anno Gatti lo continua a dire è proprio un sogno essere alla Juve e voglio continuare a migliorare Rugani perché tecnicamente è molto più forte Rugani di Gatti lo possiamo dire tranquillamente ora come ora sì Gatti deve migliorare veramente tanto palla al piede ma molto ma molto anche se qualche dirimbo l'ha fatto per carità però stiamo parlando di Gatti quindi andiamoci veramente con i piedi di piombo il discorso qual è? Rugani non gode della mia fiducia per questo anche perché c'è costato due o tre eliminazioni dalla Champions League ma il discorso a parte questo però Rugani puoi fare affidamento su di lui in determinate partite contro altre squadre soprattutto dovessimo tornare in Champions e quindi fare un po' di turnover con lui l'anno prossimo non lo so io di Rugani non mi fido particolarmente ok ok ci sta lo capisco lo capisco e allora dato che siamo dato che siamo negli ultimi 15 minuti parliamo un po' di futuro tu l'anno l'anno prossimo lascia perdere quello che vuoi tu secondo te l'anno prossimo che cosa succederà in panchina? ti dico ci sono delle voci molto importanti anche dall'interno dello spogliatoio bianconero sembra che ci sia veramente una divisione a livello societario Giuntoli e Calvo spingono per l'esonero di Allegri Cherubini invece e Idem Scanavino vorrebbero tenere esattamente Idem Mann ecco si sembra che la Juventus a livello societario sia però orientata ad un cambio in panchina cambio in panchina quindi generare Allegri e prendere un allenatore giovane moderno di prospettiva che costi soprattutto poco ricordiamoci che c'era stata la voce su mister Conte però dubito arrivi a meno di 10-12 milioni netti a stagione la Juventus che avrà bilancio ancora Allegri per un anno non può permettersi un altro allenatore di questo tipo quindi l'idea numero uno sembra essere quella di Tiago Motta perché è Idem Palladino in secondo piano perché sono allenatori che stanno dimostrando con gioco e risultati di poter meritare una big una squadra big di questo campionato e soprattutto sono allenatori in grado di lavorare con i giovani la Juventus che ha come obiettivo sì di rimanere competitiva ma soprattutto di essere una Juventus sostenibile eh lo diciamo sempre anche noi sì sì le parole sono cioè quello che ci hanno raccontato loro è questo che devono essere sostenibili sostenibili vuol dire che prendi il ragazzino a 5 milioni dalla squadra di serie C del Lussemburgo glielo dai a un allenatore che gli fa fare 4 gol in 5 partite e il prezzo è già schizzato cioè io non conosco altri metodi di sostenibilità per il calcio è l'unico ma l'esempio eclatante purtroppo è quello e dico purtroppo è quello di Iling Junior l'anno scorso era un giocatore sconosciuto buttato dentro contro il Benfica ha spaccato la partita portando il risultato sul 3 a 4 partita purtroppo poi persa ha giocato qualche altra partita ha dimostrato di essere un giocatore interessante da che nessuno lo conosceva il Tottenham sembra essere pronto già offrire 25-30 milioni di euro questo significa essere una squadra futuribile prendi giocatori giovani li valuti li fai giocare li fai emergere li fai vedere al calcio mondiale che questi giocatori hanno delle potenzialità li vuoi tenere bene se ti arriva l'offerta importante dai 40 agli 80 milioni in Italia e soprattutto questa Juventus che deve sistemare il bilancio difficilmente si può dire di no a questo tipo di offerte Iden vedremo con Sule come andrà a finire quindi o li giri in prestito crescono li riprendi li fai giocare li vendi o li vendi subito ora come ora nessun club in Italia ha la forza di dire no a certe offerte anche l'Inter lasciamo perdere i debiti dovessi arrivare all'offerta sparo 40 milioni per Di Marco 60 per Barella io sono convinto l'Inter li venderà perché nemmeno l'Inter l'anno scorso finalista di Champions quest'anno il 99% vincerà il campionato ma la situazione del calcio italiano è questa sì sì se puoi fare cassa se puoi fare cassa la fai ma tu quanta quanta percentuale dai a questo cambio in panchina cioè quali quali potrebbero essere i termini della separazione cioè se la Juve arriva seconda e non vince la Coppa Italia per te va via Allegri per esempio ti dico senza problemi per quello che vale il mio pensiero ovviamente certo no no la tua opinione non posso sbilanciarmi chissà quanto ma per quello che è il mio pensiero io do una a meno che non si vinca lo scudetto anche dovresti vincere la Coppa Italia non voglio sminuire questa competizione ma parliamo della Coppa Italia lo scudetto è una cosa diversa a meno che non si vinca lo scudetto a prescindere dai risultati in Coppa Italia la Juventus esonerà Allegri io mi sono convinto anche perché vincere non è importante è l'unica cosa che conta dopo tre anni con zero titoli o tutta al più una Coppa Italia non è mai successo nella storia bianconera che un allenatore dopo tre stagioni del genere sia rimasto sulla panchina non vedo perché Allegri debba fare la differenza possa fare la differenza sicuramente la Juventus come dicevo prima dovesse esonerare Allegri punterà su un allenatore che costi poco con esperienza Paladino Tiago Motta i primi della fila Tiago Motta sembra anche essere il preferito di questa dirigenza a quanto pare dicono che Giuntoli lo segua Damò io ritengo che il possibile giorno di Allegri a fine stagione sia davvero probabile intorno all'80% perché arrivare nei primi foto in questo campionato è obiettivamente semplice io l'ho detto fin dall'inizio della stagione capisco non vincere lo scudetto perché comunque l'Inter ad oggi per la lunghezza della rosa nettamente più avanti ma rispetto a tutte le altre squadre la Juventus ha la rosa per poter competere tranquillamente per i primi quattro posti quindi non vedo e non giochi in Europa e non giochi in Europa quindi non vedo perché se non si vincerà lo scudetto servirà a mantenere Allegri a meno che non se ne farà allora anche in quel caso una questione di soldi di bilancio non si prende un altro allenatore si tiene Allegri ancora un anno però mi risulta che Allegri per sua stessa volontà non voglia rimanere in una squadra lo dicono Zazzaroni che è il suo ufficio stampa personale continua a ripetere che Allegri andrà via anche perché o lo rinnovano da adesso a maggio o sarà anche sarebbe anche complicato nel caso iniziare la prossima stagione con il contratto in scadenza anche lì sarebbero cose più uniche che rare perché è difficile che un allenatore sieda in panchina durante il suo ultimo anno di contratto perché qual è il progetto futuro che ci sto facendo io qua per quest'anno e vabbè la domanda è scontata però Tiago Motta è quello che ti piacerebbe di più? Ti dico a me piace veramente tanto come modo di allenare per come difendi i giocatori anche l'italiano della Fiorentina molti lo denigrano dicono no non è un allenatore di livello per carità io rispetto tutti i punti di vista ci mancherebbe altro a me piace molto l'italiano per la proposta di gioco e perché sa valorizzare sia i giovani sia anche i giocatori di esperienza che ha a disposizione Vlauvi c'è un esempio ha rigenerato Arthur Nico Gonzalez è diventato quasi quasi un fenomeno capiamoci sa valutare bene tutti i giocatori e sa rivalutarli soprattutto anche in ottica possibili cessioni quindi l'italiano è un allenatore che a me piace veramente tanto vedendo come sta andando il campionato ad oggi Tiago Motta credo sia indiscutibile anche l'eliminazione di ieri sera dell'Inter in Coppa Italia è stata un qualcosa di incredibile guarda l'abbiamo commentata in diretta e inizialmente noi pensavamo proprio vabbè a San Siro cioè l'Inter Falcaterpillar un gol nel primo tempo un gol nel secondo e ce ne andiamo a casa anche perché non avevamo voglia di commentare pure i supplementari e quindi quando quando al novantesimo arrivano solo 0-0 eravamo un po' mareggiati però poi i supplementari sono stati divertentissimi sì sì anche perché immagino che immagino che concorderai la cosa più stupefacente è stato che la vittoria arriva dopo essere andati in svantaggio certo in casa dell'Inter cioè secondo me ieri veramente il Barcellò e il Barcellò sì il Barcellò il Bologna ha fatto ha fatto qualcosa veramente di di pazzesco e degli altri nomi che si fanno o che si sono fatti eh nei mesi anche anche l'estate scorsa quando Allegri sembrava invilico sembrava vicino all'Arabia Saudita eh per esempio Tudor tu che opinione hai di lui Tudor è un altro allenatore che intanto è uno giuventino quindi già sarebbe ben accetto quanti anni hai Lorenzo scusami ok quindi Tudor giocatore non te lo ricordi ok no 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 però è un giocatore che ha amato la maglia bianconera e tuttora ama la Juve quindi il suo ritorno io lo vedrei positivamente ha dimostrato col Marsiglia di potere essere anche un allenatore di livello però non lo vedo ancora pronto per vestire la camina camicia bianconera dell'allenatore la cravatta ecco mi piace mi piace la sua mentalità perché è uno che comunque impone alle sue squadre di lottare di combattere durante le partite un atteggiamento che a me piace veramente tanto però gli manca ancora qualcosa non lo vedo ancora pronto forse un po' di carisma uno che a me piacerebbe veramente tanto ma è l'ennesima minestra riscaldata lo dico senza problemi è Conte Conte è davvero quell'allenatore che ti fa fare il salto di qualità almeno in campionato però ti costa tanto ti chiede determinate campagne acquisti ovviamente quindi sarebbe complicato anche riuscire poi perché poi lui cioè guarda allora il mio collega direttore Fabio Villani oggi non c'è lui è Contiano di Ferro io sono arrivato al punto di non sopportare più Allegri che mi farei andare bene anche Conte ma perché perché purtroppo a me di Conte preoccupa la questione psicologica perché sappiamo che è una scheggia impazzita perché lui ci tiene talmente tanto al suo lavoro che poi può arrivare a sbroccare anche no e quindi non lo so non lo so io io sono anch'io sono più a favore di aria nuova e basta e basta minestre riscaldate a prescindere da quello che può essere poi ovviamente l'ingaggio che ti chiede Conte che ovviamente è un ingaggio secondo me fuori fuori portata per la UE oggi e magari ti dico lui magari con noi magari magari qualcosa l'ha capito e farebbe anche magari meno capricci sul mercato rispetto alla prima volta cioè io non me lo vedo arrivare al punto di piangere perché abbiamo venduto giaccherini o cose di questo genere no penso che forse forse sarebbe un po' più equilibrato però 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 anch'io come te c'ho bisogno di c'ho bisogno di comunicazione nuova quindi voglio sentire parlare per la mia squadra una persona che non ho mai visto ho sentito parlare per la mia squadra e mi incuriosisce appunto la cosiddetta nuova onda degli allenatori vedere cosa potrebbero combinare in una big perché secondo me Tiago Motta la cazzimma per stare in una big ce l'ha per quello che è il suo passato anche da calciatore le esperienze europee con l'Inter Paris Saint Germain la nazionale italiana eccetera eccetera io da quel punto di vista lì invece italiano e palladino ahimè te li metto un gradino sotto e ti dico anche perché io noi abbiamo commentato in diretta ovviamente anche Monza Juventus e abbiamo notato come sia palladino in questo caso ma anche italiano nella partita con la Fiorentina si sono un po' snaturati si sono un po' adattati alla Juventus no? a differenza di quello che ha fatto Tiago Motta che infatti il Bologna è stata una di quelle squadre che ci ha messo più in difficoltà quest'anno allora la paura che abbiamo avuto noi è questa abbiamo detto ma se palladino e italiano quando giocano contro la Juve si snaturano non è che se questi quando arrivano alla Juve poi vanno a giocare in Europa incontrano il City Liverpool si snaturano perché si considerano un'altezza e quindi ci ha fatto ci ha dato un po' da pensare questa cosa quindi per ora diciamo il cavallo vincente di Leif Bianconera rimane Tiago Motta ecco nonostante tu come lo vivi il suo passato da interista male o onestamente non me le può fregare de meno te lo dico ma per un semplice ogni allenatore anche quando è stato giocatore Conte lo dicevamo prima Juventino è andato all'Inter tornasse alla Juve sono professionisti vanno dove gli danno soldi dove comunque sentono di poter dare qualcosa se torni se vieni alla Juventus o torni alla Juventus è perché te lo devi sentire e vuoi dimostrare di essere la Juventus io quindi ti sono favorevole Tiago Motta è stato interista non mi interessa non mi interessa minimamente se vieni alla Juventus vieni perché vuoi fare bene ieri mi hai detto che avete commentato la partita Tiago Motta a San Siro contro la sua vecchia squadra durante la decisione del calcio di rigore Lautaro durante altri momenti della partita lo vedevamo che si arrabbiava si lamentava con l'arbitro quindi anche personalità nonostante fosse contro la sua vecchia squadra a me questo è un atteggiamento che è piaciuto denota personalità e carisma e grinta di fare bene benvenga uno così alla Juventus se è stato interista non mi interessa ma guarda guarda stai sfondando veramente stai sfondando veramente una porta aperta allora va bene va bene io penso che ci siamo detti tutto quanto a questo punto perché abbiamo parlato abbiamo parlato di Superlega abbiamo parlato di presente calciatore abbiamo parlato di allenatori e dai ti chiedo un'ultima cosa pronostico poi ti lascio la parola così se vuoi chiudere tu nella maniera che vuoi puoi farlo fammi un pronostico per la partita con il Frosinone che cosa ti aspetti guarda se devo fantasticare io mi immagino una Juventus che contro il Frosinone riesca a vincere 2-0 alternando fasi dove si attacca momenti dove si difende ma giocando mediamente bene se devo guardare le prestazioni viste fino a questo momento contro un Frosinone che comunque sta facendo bene il 4-0 al Napoli in Coppa Italia due giorni fa l'ha dimostrato mi aspetto sicuramente una partita complicata da Juventino io non posso immaginarmi un risultato diverso dalla vittoria e conoscendo questa Juve dico 1-0 2-1 se riusciamo a segnare più di un gol alla partita però non sarà semplice col Frosinone mi sento male a doverlo dire come mi sono sentito male a doverlo dire semplice col Genoa non sarà semplice con Lecce e così via perché veramente questa mentalità che è entrata in circolo di tutti quasi tutti i tifosi di Juventini che qualunque partita sembra che affrontiamo Bayern Monaco Real Madrid a me fa abbastanza l'umiltà l'umiltà di andare a Frosinone e metterci al loro livello sì è tutto è tutto molto strano è un anno è un anno molto bizzarro e poi io ti dico io sono sono un po' più grande di te io ho vissuto anche il calcio degli anni 90 quando io ho sentito quest'anno l'allenatore della mia squadra dire che non gioca le coppe dire che l'obiettivo è il quarto posto io uso un termine volgare Lorenzo a me mi sono proprio caduti i coglioni per terra poi spero che sia roba di facciata spero che sia maniavantismo e che in realtà nello sbogliatoio un pochettino ci credano perché se no se no veramente io non lo so neanche più cosa stiamo commentando no è stata la storia della Juventus se dici che l'obiettivo è il quarto posto e non lottare per la vittoria finale io non dico la Juve deve vincere lo scudetto la Juve deve provare a vincere lo scudetto c'è un enorme ogni anno ogni anno ogni anno e se non ci hai provato è fallimento esatto io la vedo così non voglio essere drastico ma sono convinto no 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 ma guarda è calcio se non si può essere drastici sul tifo e sul calcio non si può essere drastici nulla quindi è giusto che ogni tifoso si esprima è giusto che io e te diciamo determinate cose senza che arrivi Tizio e Caio a dirci eh ma la rosa è scarsa eh ma non siete veri giuventini eh ma non aspettate altro che allegri perda questo è e fa parte del giochino certo fa parte del giochino va bene allora Lorenzo se vuoi aggiungere qualcosa se no io ci possiamo anche salutare sono le dieci e mezzo ti lascio andare una sola domanda velocissima per curiosità mia se secondo te è giusto il minutaggio aggiungo scarsissimo su Ildiz appena una quarantina di minuti giocati in sei sette presenze mi sembra se secondo te è giusto anche gli amici che ci stanno seguendo o meriterebbe più spazio guarda allora io su Ildiz eh ho questo grande dilemma Allegri Allegri non è mai stato abituato a lanciare con continuità o da subito i giovani e lo sappiamo quindi non possiamo meravigliarci la cosa che mi fa che mi dà da pensare è che in passato quando gli si facevano i nomi di determinati giocatori gli si chiedeva oh ma perché sto giovane non gioca lui giustamente perché era a suo punto di vista da allenatore che ha un certo tipo di idea ti diceva eh ma perché devono capire che cos'è la Juventus ci sono dei giocatori hanno bisogno di capire che cosa significa essere qua eccetera eccetera quello che lui invece su Hildiz quello che invece lui esprime su Hildiz è qualcosa di completamente diverso perché ogni volta che gli chiedono qualcosa di questo ragazzo lui lo elogia sempre cioè tu non gli hai mai sentito dire eh ma Hildiz deve crescere Hildiz sì magari l'avrà anche detto però lui lo elogia sempre tantissimo sempre lui dice è un ragazzo con una tecnica incredibile questo c'ha dei colpi eccetera eccetera e quindi il fatto che lui poi non scelga di schierarlo anche in delle situazioni come contro il Genoa è la cosa che più eh mi stupisce perché anche la perché sulla perché per quanto riguarda healing lui su healing non si è mai espresso come si è espresso su Hildiz eppure il minutaggio è bene o male siamo lì no? cioè quindi davvero io non lo so se è una direttiva aziendale del tipo non farcelo rompere prima di gennaio perché a gennaio lo diamo in prestito può essere può essere oppure è l'ennesima volta in cui qualche giornalista se facesse un po' meglio il suo lavoro potrebbe fare questa domanda ad Allegri cioè ma questo giocatore che tu elogi sempre come mai poi alla fine della fiera lo spazio non lo trova perché tu hai appunto un Vlaovic e un Chiesa completamente sterilizzati nella fase realizzativa Ken che non ha mai segnato Milik che fa beh non lo so Milik quest'anno punto di domanda l'anno scorso inizio stagione era uno degli acquisti azzeccati quest'anno sembra quasi una palla al piede allora io dico ma sto ragazzo contro il Genoa contro il Frosinone contro l'Empoli contro il Lecce contro la Salernitana fallo giocare e vediamo che combina fallo partire titolare e vediamo anche perché prima o poi lo dovremmo testare sul campo cioè questo gioca nazionale in nazionale con la Turchia e non trova spazio in questa Juventus qua io ti giuro guarda Lorenzo non riesco a trovare una spiegazione non la riesco a trovare per me è un'incognita ma è un giocatore che vorrei vedere di più è un giocatore e ti dico la verità mi ha impressionato più le volte che ho visto Ildiz con noi che non su Le quando l'ho visto con noi lascia perdere quello che sta facendo adesso a Frosinone ma secondo me l'impatto in campo le poche volte che è sceso di Ildiz è stato più incisivo di quello di su Le dell'anno scorso quindi io davvero davvero non riesco a capire perché sto ragazzo trova così poco spazio mi hai dato la risposta mi hai dato la risposta che volevo sentirmi dire te lo dico proprio tranquillamente ma io speravo di litigare con te ho detto speriamo che stasera venga qualcuno che non la pensa come noi sempre qua a cantarcela a suonarcela da soli finalmente stasera si litiga e invece no invece siamo andati d'accordo no sto scherzando mi fa piacere aver fatto mi fa piacere aver fatto questa chiacchierata con te Lorenzo e anzi spero che questa sia la prima di tante altre ospitate magari in dei periodi un po' meno incredibili perché oggi mancano quattro giorni a Natale giovedì sera eppure siamo qui quindi magari che ne so con l'anno nuovo magari ci torni a trovare quando vuoi che le porte di live bianconera sono sempre aperte molto molto volentieri mi sono trovato davvero bene al di là per il fatto che eravamo d'accordo su praticamente tutti gli argomenti anche per il modo in cui si è svolta la serata il tono gli argomenti è stato veramente tutto molto piacevole mi sono trovato davvero bene quindi grazie per l'invito sicuramente sì tornerò quando vorrete voi molto molto volentieri e grazie davvero un saluto a tutti gli amici che ci hanno seguito grazie davvero infatti allora dico due cose e poi ci salutiamo davvero chat stasera eravate molto pochi anche se eravate pochi avrei dovuto cagarvi di più mi dispiace però lo sapete che quando c'è questo tipo di ospite parte la chiacchierata e quindi magari non riesco a starvi dietro anche se eravate pochi vi chiedo scusa però in questa ora e mezza volevo volevo parlare con con Lorenzo andate a iscrivervi sul suo canale youtube che è lorenzo bulgarelli channel giusto semplice perfetto e quindi io adesso ringrazio ancora lorenzo lo saluto e gli faccio anche gli auguri di buon natale a questo punto auguri a voi auguri a te grazie mille buone feste a tutti buonanotte chat e buonanotte anche youtube se siete rimasti ad ascoltare il video fino a qua buonanotte noi con live bianconera ci vediamo domani alle 15 perché commentiamo ovviamente la conferenza stampa sia del Mago Max che di Francesco quindi buonanotte e ci vediamo domani alle 15 ciao e quindi è caccio non è che giochi bene giocare bene cosa vuol dire giocare bene io non ho ancora capito ho 52 anni se qualcuno me lo spiega io sono ho la mia unità ho il vetto lì e cerco di capire come si fanno per bene magari poi ci provrò però ci vedo che è fatto ok come dico sempre nella vita in tutti i luoghi sono le categorie e dico sempre ci sono giocatori che vincono le scelte giocatori che non le vincono ok prendo i giocatori che non vincono le campionate giocatori che vincono i giocatori che ne frusciano e i giocatori che non ne frusciano mai ci sono i dirigenti che vincono le altre 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 che vincono cazzo se non vince mai ma ci sarà un motivo Dio santo ecco cazzo ecco 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 Grazie a tutti.